Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Era assalito sul tetto dello stabile dove si trova la palestra in cui lavora per indicare agli operai dove si trovava l'impianto del condizionatore d'aria rotto quando improvvisamente è precipitato dal lucernaio. È ricoverato in prognosi riservate il 29enne di Serra dei Conti, istruttore di una palestra a Pianello. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì. Esportazioni marchigiane in crescita nel primo trimestre dell'anno. I dati Istat, fa sapere Confindustria Marche, hanno registrato una variazione positiva del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2018, più consistente della media nazionale, più 2%, ma inferiore a quella media delle regioni centrali, più 15,1%. Anche il peso dell'export regionale sul totale nazionale è cresciuto dal più 2,6 al 2,7%. Si è tenuta ieri mattina l'udienza di convalida dell'arresto del quarantenne protagonista di una violenta lite in famiglia a Marzocca. Sabato era stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per una lite in un appartamento tra padre e figlia di 17enne. All'arrivo della polizia la madre era sotto shock, la casa sottosopra e nell'abitazione era stata trovata una mannaia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'episodio era l'ultimo di una lunga serie di liti verbali e scontri fisici. Avvenuti tra la giovane e il padre. L'arresto del quarantenne per lesioni e maltrattamenti è stato convalidato. L'uomo è stato scarcerato, il GIP ha disposto l'allontanamento da casa e il divieto di avvicinarsi alla figlia 17enne. Dopo la vittoria alle elezioni amministrative del 26 maggio scorso, il neosindaco di Ostra, Federica Fanesi, ha nominato anche i nuovi assessori. La nuova giunta del comune di Ostra per i prossimi cinque anni sarà composta da quattro assessori. Il sindaco ha nominato Raimondo Romagnoli, Alberto Agarbati, Daniela Antonelli e Simone Bedini. Il vice sindaco della Fanesi sarà lo stesso Raimondo Romagnoli. Anche per la ricca diversità del litorale, le Marche rappresentano l'Italia in una regione. Su 176 chilometri di litorale, 141 sono di spiagge, di sabbia, gaia, ciottori e roccia e 55 siti costieri. Un immenso patrimonio costiero da tutelare, proteggere e valorizzare. Obiettivi su cui si basa il nuovo piano di gestione integrata delle zone costiere, approvato dall'Aggiunta regionale e trasmesso all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Rimaniamo a parlare di costa perché è stata presentata ieri mattina a Roma, nell'ambito del workshop conclusivo del progetto Medsea Later, il mare più bello 2019. La guida annuale di Lega Ambiente e Touring Club italiano che racconta le più belle località balneari e lacustri del nostro paese, dove trascorrere una vacanza attenta all'ambiente. Nelle Marche, ad un passo dalle Cinque Vele, la riviera del Conero, un vero e proprio gioiello naturalistico dove la cultura e l'architettura si mescolano con la bellezza delle spiagge e della macchia verde mediterranea. Seguono con tre vele le località di Grotta Mare, Cupra Marittima, San Benedetto del Tronto, della riviera delle Palme, cui si aggiungono, con una vela in più rispetto allo scorso anno, anche Porto San Giorgio, Porto San Terpidio, della costa del Piceno e Fano e Gabice Mare e Senigallia, della costa nord marchigiana. È tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto. Grazie a tutti.